Come è il Consorzio di tutela del Prosecco DOC? Da quattro anni qui a Treviso il Sole Luna DOC Film Festival gode anche del sostegno del Consorzio di tutela del Prosecco DOC, un impegno che il Consorzio ha voluto mantenere in questa proiezione di iniziative che partono da Treviso e tendono ad abbracciare il mondo intero, come la nostra denominazione che da questo territorio porta la propria produzione in ogni parte del mondo. In questo senso crediamo che il legame tra le produzioni agroalimentari e enologiche rappresentino una grandissima occasione di diffusione culturale, un radicamento nel territorio che trova poi consensi in altri paesi e in uno scambio di esperienze l'incontro anche tra culture diverse, culture che si misurano e trovano nel cibo sicuramente un elemento fondamentale e identificativo che a noi piace evidenziare e ribadire. Grazie Grazie Grazie